L'ultima concorrente di oggi sarà Quang Zeking, di 21 anni dalla Cina, ed eseguirà i seguenti brani in ordine. Il primo sarà lo studio capriccio 0-3-0-25 di Camillo Sivori, successivamente variazioni moderato Allegro Veloce e Allegro Viglante, dalla tecnica superiore del violino tirodolfo di Pizarre, successivamente adagio al fuga dalla prima sonata in sol minore di John Sebastian Bach e infine, insieme al pianista, il concetto del re maggiore K1-118, terzo movimento e cadenza di Joe Kim. Ricordo che le prove eliminatorie si concluderanno questa sera, ci sarà poi una giocata di intervallo per permettere ai pianisti di provare con pianisti e accompagnatori. Le semifinali iniziano martedì 12 settembre alle ore 15.30 per proseguire alle 20.30 e concludersi a quelle di 13, alle ore 10, 15.30 e 20.30. Grazie. 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 Grazie.